ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un video speciale perché siamo su divinity o divinity come volete dirlo dragon commander non è un gioco nuovo perché un gioco uscito circa sei anni fa nel 2013 sviluppato sempre dai larian studios e questo dovrebbe farvelo capire il fatto che si chiama divinity sì il mondo è lo stesso di divinity original sin 1 e 2 il mondo di rivelon c'è tutta una serie di giochi che vanno riscoperti usciti già da anni che si fanno sempre parte dell'ordine original sin se vi è piaciuto sicuramente questo è indicato per voi ma perché questo video perché insomma i tiger il gruppo tiger con un menzione speciale di chantalion che è stato il primo utente a iniziare hanno realizzato la traduzione infatti lo vedete in italiano se poi incuriositi siete già andati a sbirciare su steam vedrete che c'è solo la lingua inglese quindi nel mese di settembre si spera dovrebbe uscire la versione definitiva della traduzione di questo gioco questo gioco appunto governeremo un impero ci muoveremo con strategia temporale avremo una campagna invece basata su degli spostamenti a turni avremo anche il multiplayer che possiamo comunque speciali sfidare altri giocatori insomma avere messa sfoggio alle nostre abilità nella modalità schermaglia e combattimenti tra draghi insomma c'è tutto veramente c'è tutto abbiamo una serie di tutorial che ci spiegano i campi di addestramento gli spostamenti in gioco la cattura delle strutture schierare il drago giocare il drago insomma ci sono veramente un sacco di cose guardate all'inizio scegliamo la difficoltà il tipo di drago dago di montagna il drago zeffiro veramente tradotto bene ma come sempre hanno fatto i i tiger le varie abilità e poi si può andare a cominciare l'avventura vediamo adesso c'è la fase iniziale io non voglio dilungarmi troppo perché deve essere un video che vi mette la scimmia il gioco non costa poco tra l'altro perché costa su steam 39 euro credo lo possiate trovare a meno non ho attivato i sottotitoli però però siamo nell'8800 del anno di rivelon e qua abbiamo le notizie i cartelli completano per il tono lotta senza esclusione di colpi la grafica alla fine è quella di di divinity origin sin vintorno a miglia drago sulla nave in questa meraviglia ingegneria mia demone vivente con il cuore conoscenza può trattare molto bene saltiamolo tanto insomma mostra tutorial si clic sinistro su un personaggio per parlare con lui o lei ok globo interattivo per accedere alla mappa strategica ok quindi vedete che qua c'è la mappa strategica dove gestiremo la nostra campagna vedete che qua costruisci edifici gioca carte e conquiste territori per spandare il tuo impero e le tue risorse ovesce le capitali dei nemici per vincere e non dimenticare di difendere le tue quando hai finito di giocare il tuo turno per il pulsante fine per procedere si ci si muove spostando la rotella per ingrandire che bello ricorda anche un po civilization tutto questo mentre invece torniamo qua sulla nave possiamo andare a parlare con le varie persone tradotto veramente bene poi gli ho dato un'occhiata prima e immagino mi ha detto un nome o sbaglio henry del casato del lanceford serve anche un po' il trono di spagnolo ho un nome sapete per sicuro che non è bastardo e c'è chiamato bastardo lui parlato il vostro collega l'altro generale dove posso trovarlo credo sia al bar va bene niente qua abbiamo il menù qua abbiamo la panoramica imperiale quindi vedete la popolarità che abbiamo con le varie razze in anni gli elfi gli impele lucertoli non morti abbiamo le nostre statistiche le decisioni politiche e non abbiamo possibilità di parlare con un'altra gente poi ovviamente qua bisogna andare al bar quindi ci sposta e si va a parlare con questo lucertoloide che tanto conosciamo che abbiamo tanto abbiamo visto su di veneti original sin abbiamo anche l'altro tecnologico dove si può andare a sviluppare guardate tutto allora c'è salve sire mamma mia deve essere una figata giocarlo tutto in italiano e in inglese credo sia improponibile per chi non parla comunque fluentemente in inglese mi piacerebbe dare un'occhiata al risultato delle tue ricerche ecco qua qua possiamo sbloccare nuovi tipi di unità relativi potenziamenti e spegnere i punti ricerca alcune voce ricerca che non sono selezionabili per sbloccare la ricerca di un perquisito va bene vedete che possiamo sviluppare cacciatore mezzo anfibio c'è veramente di tutto c'è ci sono varie classi dal basilare l'avanzato l'esperto e il maestro cacciabombardiare tutto su quello stile un po steampunk tipico di di veneti di tutte le serie e qua abbiamo infine le stanze reali dove possiamo andare a parlare con non esiste con questo saggio qui non esitate a chiedermi il consiglio cavaliere dago il mio studio incessante d'approfondimento ma ricorda anche un po era con chi di voi se lo ricorda cavaliere del drago insomma che che saga a parte il film che era osceno i libri erano veramente molto belli sapienza del mago vediamo i risultati della vostra ricerca ok facci vedere ok qui invece andiamo a potenziare le nostre abilità del drago quindi più territori conquistare più punti ricerca verranno segnati ogni turno ok qua abbiamo invece le abilità la grafica resta comunque sempre quella di divinity ormai il metodo di paragone è quello torniamo nel ponte di questa nave e vediamo che cosa si può fare vedete qua che è figo centro nevralgico dell'impiero si viene catturato la fazione a cui appartiene completamente sconfitta se viene catturato la fazione a cui appartiene è completamente sconfitta ecco non sono allora cacciatore vediamo un po si qua abbiamo le nostre il nostro supporto trinceramento insomma abbiamo specie dominante in questo stato gli elfi a c'è proprio il mio simbolino qua di indivore non sta proprio benissimo ma va bene il ponte qua si torna il ponte qua la panoramica imperiale vediamo un attimo eh si qua diamo vedete che c'è il cacciatore allora qua possiamo acquistare unità giocare una carta esistono molte carte orato ha tradotto anche tutte le carte è fantastico giocala sui territori per guadagnare vantaggi aumenta le entrate d'oro questo territorio giocala dai hai notato nell'angolo in alto a destra puoi usarlo se non sei soddisfatto di una mossa che è questo no va bene va bene e se io invece acquistassi acquisto un'unità spendi oro vedete prendiamo lo sciamano 6 d'oro ne abbiamo 20 quindi un granatiere e un artigliere lo compro li compro spendo tutto vedete che le unità compaiono figo passiamo il turno vediamo che cosa succede abbiamo giocato alla nostra carta poi ci saranno se andate a vedere poi anche i combattimenti in in 3d adesso ve lo faccio vedere magari andiamo a vederlo intanto vedete che qua ci viene detto tutto quello che stanno facendo le altre unità quindi diventa una sorta di civilization ah ok inizio turno c'è un altro giornale il figlio del bastardo l'imperatore morto tiene il supporto del mago va bene e sembra essere molto molto figo e soprattutto molto profondo ma adesso andiamo a vedere vi faccio vedere qui questo tutorialino schierare il drago giocabilità drago vedete quando siamo in forma draconica perché siamo cavaliere del drago possiamo selezionare unità premendo f3 possiamo muovere vedete e andiamo ad attaccare diventa un po come un total war in questo caso perché comunque andiamo a gestirci noi però in terza persona tutte quelle che sono le battaglie sul mondo di rivelon quindi direi che il gioco è assolutamente figo come vi dicevo 39 euro su steam al momento io ho provato a cercarlo anche su altri store ma non c'erano vendono veramente uno sputo perché il gioco è vecchiotto non per questo è scadente quindi insomma un'altra grandissima perla portata per noi da santalian col gruppo tiger in italiano quindi un altro applauso a questo grandissimo gruppo che ci permette di fruire di giochi veramente eccezionali perché i larian tra l'altro stanno sviluppando anche baldur's gate 3 che pare pare lo faranno già in italiano dato che questa è una di quelle case un po come paradox che ci considera meno di zero comunque ragazzi questo era un video informativo sulla traduzione dei tiger su divinity dragon commander fatemi sapere che cosa ne pensate se il video vi è stato utile lasciatemi commenti qua sotto riempite di commenti fatemi sapere e soprattutto non dimenticate di ringraziare loro la traduzione per chi non lo chiederà sicuramente uscirà mi hanno comunicato pensano sperano entro settembre quindi entro la fine di settembre quindi insomma io non risponderò qua sotto nei commenti guardatevi il video insomma che non è neanche lunghissimo ragazzi un saluto e alla prossima ciao ciao